buongiorno a tutti oggi abbiamo un idropulsore brown oral b waterjet ma passiamo all'unboxing dunque questo idropulsore brown ha un sistema pulente oral b waterjet che assicura una rimozione rapida e delicata dei residui di cibo tra i denti e allo stesso tempo stimola e massaggia le gengive se accompagnato infatti da una corretta pulizia aiuta a migliorare la salute delle gengive per ottenere risultati migliori è consigliato utilizzare il sistema pulente waterjet dopo aver lavato i denti con lo spazzolino la tecnologia waterjet è basata sulle micro bollicine e può essere usata come getto unico per una pulizia di precisione o come getti multipli per massaggiare delicatamente le gengive infatti su ogni testina è possibile cambiare la posizione del beccuccio attraverso cui viene erogato il getto dell'acqua per passare appunto da un getto singolo di precisione a getti multipli che servono appunto invece a massaggiare le gengive è possibile controllare la pressione dell'acqua a seconda delle esigenze per gengive e denti sensibili nella parte bassa c'è questo comando che ci permette di regolare appunto la potenza del getto è leggermente rumoroso è legato con questo filo a molla è sensibile molto facile utilizzare basta riempire il serbatoio se vogliamo possiamo anche aggiungere del colluttorio per la pulizia richiuderlo e una volta applicata la testina che come vedete è molto semplice da montare poi da staccare basta scegliere la potenza e poi è molto facile effettuare appunto la pulizia ricordiamo tra l'altro che il contenitore per l'acqua è da 600 ml ed è lavabile in lavassoviglie e c'è anche un comodo supporto per il montaggio dell'apparecchio a parete all'interno c'è anche questa custodia a scomparsa che serve a contenere quattro ugelli di ricambio che magari possono essere utilizzati da vari componenti della famiglia che sono comunque compresi ricordiamolo nella confezione c'è una garanzia di due anni e poi un pratico libretto di istruzioni in italiano questo apparecchio ha praticamente una qualità assicurata perché Oral-B lancia la sfida da quanto è sicura della qualità dei suoi prodotti ovvero se dopo 30 giorni lo spazzolino non convince si ha diritto al rimborso come da termini e condizioni per questa video recensione è tutto per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it